Pixie Curtis sta vivendo, a soli 12 anni d'età, una esistenza veramente straordinaria. Ha un sacco di soldi, è una ragazzina milonaria e, tra pubblicazioni ma anche voli per jet privati, si gode la vita per come meglio può. È figlia di Roxy Janko, Pixie è stata vista sfoggiare delle bolse piuttosto eleganti dal valore elevato, quasi 2.000 euro di valore, cuna Royard, e ha incontrato Anna Wintour, direttrice di Pog, ma sembra essere eccessivo. Pensate infatti che la ragazza in questione, a 12 anni, ha raggiunto una quantità di denaro pazzesco, elevato, jet privati, borse da capogero, viaggi di piano russo, ma gli insulti sono arrivati nei confronti della madre. I fan sono letteralmente arrabbiati, infatti hanno detto, come hanno riportato attraverso dei commenti pubblici, sei una ragazza viziata, perché è viziata per la quantità di soldi che la ragazzina a soli 12 anni d'età riesce a guadagnarsi. Sfoggiando benissimo i suoi peri, in viaggi di russo e extra russo e di portata e remana. Bene, vi ringrazio per l'ascolto e per la visione di questo video di oggi, utenti di YouTube, iscrivetevi, seguitevi e commentate. Ciao a tutti!